Vado Micaela Desiato, CrossFit Team 05-9, Cyprus Prodown, World 2 Categoria Master No, categoria 35-35 0 14 libre 15 10 5, 2 e mezzo 10, 5, 2 e mezzo Barra per fare il tuo stu bar 3, 2, 1, via 3, 2, 1, via 3, 2, 1, via 4, 2, 1, via 4, 3, 2, 1, via 5, 1, via 5, 1, via 5, 1, via 6, 1, via 6, 1, via 7, 1, via 8, 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 1, via Grazie. E' benissimo, eh? Non ti metto 20 calorie, è perfetto. Comento un po', quando sei la 40-42, cali leggermente. Fai sempre sotto il mio sopra, vedendo che ci metti un po'. E cali un po' quando sei la 42. E' un po' quando sei la 42. Andiamo! Uno, due, due! Un predineo canale! Grazie! Tiri Michele, tira un po', hai tirato un po', lì, cazzo tu devi spingere, aspetta l'alentare, ho troppo un presto per l'alentare, usa le gambe, non le braccia, le gambe, spingi tu le gambe, ne ho furio a mo'. Ok, la prossima caloria la moschettina qui A me viena. Sì, spero un polegate. Bocca! 3.49 Go ball? Sì, 40 go ball 1 2 3 4 6 7 No, 7 Quali bene? Oh! Mi sembra che faccia male con i gol Dai, qua spiace sui gol 7, su su Sette, allora Dai, su 1 2 8 9 9 10 11 11 12 12 12 15 16 17 18 19 20 20 20 1 3 2 Solo 18 eh! Vai, tira su! Fai 10 adesso, fai 10 e poi togli un attimo, vai su! 1 1 2 2 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 8 9 30 5 5 5 6 5 6 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 10 7 8 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 19 22 23 Grazie. 8 9 9 10 10 10 10 10 1 3 2 3 5 5 5 6 7 9 10 10 11 11 12 12 12 13 15 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 16 16 16 16 17 18 17 17 19 19 20 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 guardami i pari sono 9 l'ultimo rischia e ne cerca adesso un attimo guarda guarda la scuola insieme a quei guanti ma non perdono il tempo ma non perdono i esti fa fare per 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 Telo lì, telo lì, telo lì! Deci! Vai! Uno, due! Benissimo! Vai in pace! Uno, due! Benissimo, stai dentro eh! Vai, un altro! Ecco! Vai! Due su! Ecco! Non tirare qui, faccio un po' che sto con le gambe, dai! Vai! Dai che facciamo il quarto eh! Manca due minuti adesso, ce la fai? Vai! Così, brava! Giù! E in calma! Così, quattro, brava! Dai che facciamo il quinto, Michi, ce la fai? Vai, tre respiri, vai! Passi dietro, passo avanti, respiri e vai! Stiamo! Quattro parti, questo è il quinto! Poi vado solo cinque, dai! Due, giù! Supera! E cinque parti! Andiamo, un minuto e mezzo, dai! Vuoi fare solo cinque eh! Stai, dai! C'è 90 secondi! Vai, guarda! Dai, due su! Stai, dai! Sei! Solo quattro, Michi! Fai due, sto qui, dopo! Dai! Andiamo, 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 andiamo! Dai, due su! Andiamo, un minuto, dai! Grande! Stacca il cervello, stacca il cervello, dai! Bravo! Dai, due su! Lì, giù! 8, manca due! Manca 40 secondi, dai! Stai, dai! Stai, dai! Stai, dai! 30 secondi adesso! Due, uno! Su! Forte! Forte! Dai, dai! Veloce, veloce, veloce! Dai! Cina! Dai, vai! Su! Stai, 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 stai! Hai fatto cagare! Hai fatto cagare!